Nello scorso video ci siamo lasciati con il mio long sulla sterlina, operazione che però ho chiuso a costo operativo settimana scorsa e nel frattempo ho aperto anche un long sul petrolio. Benvenuto e ben ritrovato in questo nuovo appuntamento, io sono sempre Damiano Zito, price action trader indipendente, questa è professione trader, la rubrica dove settimanalmente racconto le mie operazioni, il mio diario di trading con un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di accademia che ho intrapreso all'interno di Airforex. Come al solito vado un po' a riprendere il mio diario, il mio diario di trading, lo andiamo un po' a vedere, questa è la situazione amministrativa al momento sul mio diario, questo è il diario del 2024, il diario che insomma al momento mi trovo in una situazione praticamente di B.E., però adesso andiamo a vedere un po' quello che è il dettaglio di marzo. Sul marzo lo possiamo vedere anche da qui, io ho effettuato al momento tre operazioni, due di queste sono operazioni sulla sterlina dollaro e una è il nuovo long che ho inserito sul petrolio e che è entrato settimana scorsa. Adesso lo andiamo, insomma, fra un po' lo andiamo a vedere sui grafici. Eccolo qui, quindi la sterlina dollaro, il secondo trade, che era sempre un long, che ho aperto praticamente il 20 marzo e l'ho chiuso, praticamente dopo circa sette giorni, anzi sette giorni di mercato, sul livello a 1,26, 1,26 circa, 1,26, 0,08 diciamo, con degli interessi chiaramente negativi in questo caso e un costo operativo di 126,54 euro. Ovviamente ho scritto quelle che sono le mie considerazioni sul mio diario, qui ci sono le mie note, ma lo andiamo a vedere un po' sui grafici. Sono delle note che chiaramente io adesso posso andare a rileggere, ho la fortuna, o meglio, ho questa rubrica che mi permette anche di rivedere le operazioni che faccio, quello che dico, quello che spiego, e quindi diciamo che è un diario un pochettino più evoluto da questo punto di vista. L'altra operazione, come possiamo vedere, è l'operazione sempre long, questa volta sul petrolio, un'operazione che ha un ingresso 82,41, un livello di investimento 74,90, ma dopo lo vediamo sui grafici, e possiamo vedere come... Io sto investendo sempre i miei 250 euro su un determinato livello, che adesso vediamo al grafico, e in questo caso, diciamo, il controvalore, essendo uno strumento diverso, in questo caso una materia prima, non è un mercato, per esempio, come la sterlina, quindi non è il Forex, il controvalore in questo caso diminuisce, stiamo parlando di 2743 euro di nozionale, che quindi, diciamo, rappresenta la mia esposizione in questo momento, in questo momento il mercato è salito un po' più alta, però che è l'esposizione con la quale sono entrato a mercato. Quindi ho comprato 0,33 CFD sul petrolio attraverso la piattaforma del mio broker, che è IG. Bene, quindi andiamo un attimo sui grafici, grafici che al momento ho aperto sulla sterlina, questo è il dettaglio, c'è anche un mio studio che ho fatto nel fine settimana, insomma, stavo rivedendo alcune false rotture, questo è sostanzialmente la situazione, abbiamo comunque chiaramente un mercato che si è indebolito nuovamente, io avevo fatto il long su questo livello, quindi dove ho segnato il livello di entry, c'è stata la convalida e subito la conferma, eravamo poco sotto questo livello importante sul settimanale, ne abbiamo discusso nello scorso video in realtà, ma anche in quello precedente, il mercato poi ha, con questa volatilità, annullato il trigger, ma è tornato nella zona di rialzo, insomma del rialzo che aveva creato la rottura sul settimanale, quindi zona 1,26. Che cosa succede? Io avevo un investimento su zona 1,2480, però applico un metodo che mi permette di essere un pochettino più proattivo sul mercato, quindi meno reattivo, quindi chiudere meno repentinamente e capire quello che sta succedendo, proprio perché questa era una zona ritestabile da parte del mercato, proprio perché era una zona dove poteva effettivamente ripartire il prezzo, qui prima di prendere una decisione ho atteso un po' e ho chiuso sostanzialmente il 27 se non sbaglio, quindi quando si è creata questa debolezza, forse la mattina dopo, la sera, insomma ho chiuso la mia operazione, proprio perché effettivamente si stava un po' incastrando la situazione, il mercato non riusciva più a stare sopra il livello chiave 1,2630, che è stato il livello da, insomma da ormai da settimane, possiamo dire da mesi, dove il mercato effettivamente mi aspettavo potesse essere ricomprato, il fatto che lui rimaneva sotto e non ce la faceva spingere, dopo questa volatilità ribassista, mi dava l'idea che poteva ancora fare un giro verso gli 1,25, probabilmente li può anche fare, e quindi diciamo non aveva più senso rimanere nel mio trade, ho preferito tagliare il costo operativo, questo che significa? Significa che la mia view che era completamente long, era un po', stava cambiando, comunque ho lasciato anche il tempo al mercato di muoversi, quindi capire se effettivamente dovevo, potevo cambiare view, e quindi diciamo nel fine settimana effettivamente ho anche modificato il mio piano operativo, quindi da only long in questo caso è diventato long short, long short nel senso che effettivamente la situazione è cambiata, si è degradata quella price action long che è diventata ormai una falsa rottura sul settimanale, confermato un po' sul daily, ma non siamo ancora nelle condizioni di metterci relativamente only short. questo che significa? Significa che, è vero, io avevo un investimento a 1,2480, il mercato da questi livelli, o anche un po' più in basso, potrebbe ancora fare questo e poi il recupero e quindi tornare a riprendere il trend che avevamo visto, praticamente era il trend di medio periodo, diciamo che stava un po', stava continuando il mercato ormai dai minimi di ottobre 22, anche se qui abbiamo avuto questa fase laterale che è andata, diciamo, per un po' di tempo a compressare i movimenti di mercato. Comunque, a parte questo, quello che, insomma, sostanzialmente volevo un po' dire è il fatto che, anche se il mercato adesso dovesse fare qui una price action long, dovesse confermare quella che era magari la mia view di, non di questa, ma dell'altra settimana, io comunque ho fatto il mio trade con un costo operativo ridotto, quindi non rimango a mercato agganciato all'idea che possa tornare un'idea long, e qui la, diciamo, il ragionamento che ho fatto, ho comunque, diciamo, pagato il mio costo operativo per, se vogliamo, il timing che è stato annullato da una volatilità short, oltre il mercato probabilmente dovesse tornare long, ha bisogno comunque di fare altri movimenti, o può anche darsi che venga annullata completamente questa view anche long, e quindi, diciamo, il mercato possa andare a bucare anche questa zona, e quindi, diciamo, a creare dei movimenti un pochino più verso gli 1,24, 1,23, insomma, che erano zone, che sono zone un pochino più, possiamo andare a vedere un po' sul settimanale, sono zone più, in questo momento più lontane, ma comunque, dovesse tornare debole il mercato, comunque raggiungibili. Quindi questo, chiusura quindi dettata da questi ragionamenti, dettata dal fatto che chiaramente il mercato non era un mercato che pagava anche interessi positivi, stare dentro significava che potevo rimanere tempo per più tempo agganciato a questa situazione un po' compressa inside, anche se avevo il piano di decidere solo dopo il, come dire, un movimento sopra o sotto queste due zone, però il fatto che stava un po' congestionando mi stava dando l'idea e il fatto che rimaneva sotto l'1,26,30 era molto più probabile avere un movimento più repentino verso il basso. Quindi, costo operativo inferiore, quindi i miei 250 euro sono diventati 126 arrotti, insomma, abbiamo visto poco fa sul diario di trading. Bene, quindi, diciamo, adesso sto guardando, sto guardando un po' la situazione, non ho dei trigger operativi sul mercato per poter fare, insomma, ulteriori considerazioni o sicuramente non per fare trading. L'altra operazione, invece, è l'operazione sul petrolio. Chi mi segue, se mi segui, insomma, avrai visto che io già avevo fatto un primo trade long sul petrolio, un trade che, diciamo, un mercato che stavo seguendo un po' dalla costruzione dei minimi che ha fatto già, diciamo, dopo questa falsa rottura, quindi da inizio febbraio, io avevo provato già a fare il primo trade long su questa situazione, si era un po', qui già, avevamo, diciamo, una price action non molto qualitativa, ci ho fatto anche il video di retrospettiva su questo trade. Avevo comunque un trade che avevo fatto long sulla rottura di questo massimo, quindi sono entrato il 22 febbraio con uno stop a 71, quindi comunque una view di medio periodo, però nel momento in cui, ecco, diciamo, quando c'era stata questa price action, che mi dava l'idea di, o meglio, perdono, era questa qui, l'idea che qui potesse ancora tornare su questi livelli, magari creare un migliore trigger, insomma, potevo avere, diciamo, probabilmente una situazione migliore, no, dal punto di vista qualitativo, quindi ho preferito comunque chiudere, praticamente, ABE e attendere la conferma di quella che era comunque la mia view. Qual era la view? La view era, appunto, la rottura di, diciamo, confermativa di questi massimi di novembre, quindi in zona un poco sotto gli 80, eccetera, perché chiaramente la mia, la mia era una view comunque più ampia, il fatto che il mercato potesse andare a rompere questi 80, a rimanerci su, comunque era confermativa della mia view, quindi ho atteso e ho acquistato addirittura 82, 82,40, quindi più in alto, se vogliamo, rispetto, rispetto a questa situazione, ma con una conferma maggiore che viene sempre dal settimanale. Settimanale, infatti, che chiaramente io stavo, appunto, seguendo dopo questo, questa situazione 1, 2, 3, ok, che sembrava essere annullata da questo, questo setup short, che in realtà è stato falsato e recuperato, il mercato che cosa aveva creato? Falsa rottura su questo livello è qui e ha creato, diciamo, la prima situazione, diciamo, con un certo dettaglio sul daily, di tenuta, con una price action sul daily non bellissima dal punto di vista di false rotture, eccetera, quindi un po' congestionata, poi è rimasto per, per 2, 3 settimane un po', a, diciamo, stressare un po' questi, questi massimi, questo livello, e quindi, diciamo, è arrivata, quindi questa è una price action, diciamo, un trigger del nostro piano operativo, come Airforex, con il metodo che utilizzo, quindi doppio minimo higher close, ok, doppio minimo higher close, poi il mercato è rimasto inside della settimana successiva, quindi questa barra nera rimane inside, cioè all'interno di questa candela, e successivamente, che cosa succede? Il mercato rompe un po' a ribasso, questa inside va al rialzo, e quindi nuovamente conferma con un mercato che crea un nuovo doppio minimo higher close, quindi conferma della forza, della volontà da parte del mercato di abbandonare ormai definitivamente questa zona, infatti poi è stata confermata questa price action, e quindi andare un po' verso l'alto. Questa che molti potrebbero identificare come una pinbar, non era una pinbar sicuramente di inversione, era semplicemente un mercato che è appena partito e prende i primi profitti, niente di che, ma io ho una view che in questo caso, diciamo che è una view più verso, diciamo con un prezzo che può arrivare verso poco sotto, o comunque verso i 90 dollari al barile. È chiaro che, diciamo, il mercato comunque può anche non arrivarci, va gestita la posizione. In termini di investimento, quindi diciamo di posizionamento, io ho messo i miei 250 euro classici all'interno di questo spazio, quindi ho fatto la mia entrata a 82,41, e uno stop a 74,90, quindi insomma, in realtà volevo mettermi 75,20, poi ho visto che ero un pochino troppo vicino a questi minimi, e alla fine ho preferito 74,90, potevo mettermi poco sotto, poco sopra, comunque sotto questo pavimento, cambiava poco. 74,90 quindi è la zona di massimo investimento, con l'idea, quando sono entrato, che chiaramente se il mercato tornava sempre sotto questa zona qui, ci poteva tornare, ma per fare eventualmente, magari dopo la mia entry, rifare qualcosa di, come dire, di più, di questo tipo, quindi due, tre, tre giornate magari, è short, appoggiarsi un po' sul livello di 80, ritestarlo, creare, a presection di recupero, di falsa rottura, e quindi tornare al rialzo, allora a quel punto avrei, semmai, ancora, aggiunto un'ulteriore posizione, e avrei posizionato magari, uno stop più ampio, probabilmente, più stretto, quindi avrei magari, anche incrementato questa posizione, cercando di gestire sempre, il mio rischio. Al momento quindi, io sono entrato nel mercato, il mercato ha confermato, il mio posizionamento, nel senso che, non ha fatto, non ha fatto ritracciamenti, e ho appunto, questa posizione, possiamo un po' vederla, eccola qui, che vorrei accompagnare, almeno, almeno fino, cioè fino a 89,60, circa, o comunque, versi 90. Potrei fare, sempre delle, delle gestioni amministrative, quindi delle chiusure, prima, abbiamo sempre, delle zone, più o meno verso gli 86, questa, questa zona, che è stata una zona, resistenziale, nel, ottobre 23, insomma, questa, questa zona intermedia, per come, diciamo, il mercato si è strutturato, sul settimanale, andrò a capire, un po' come, cosa farà il mercato qui, perché potrebbe, sicuramente, ritracciare, e, quindi potrei gestire, la posizione, o, chiudendo e poi rientrando, dipende un po' qual è la situazione, amministrativa, comunque, gestire la posizione con calma, il mio stop è ampio, e, e ci sta, e, quindi, diciamo, questa è, questa è la situazione, dal punto di vista, quindi, di, posizionamento, io non ho fatto ulteriori modifiche, dopo, dopo l'ingresso, chiaramente, perché, non ci sono, non ci sono stati, grandi movimenti, né a rialzo, né a ribasso, e quindi, sono, sono abbastanza tranquillo, è chiaro che, dal punto di vista, temporale, il raggiungimento di questo target, potrebbe, impiegare, no, come il mercato potrebbe impiegare, un pochino, un pochino di tempo, e se ci pensiamo, per esempio, questa, sto vedendo questa gamba qui, quindi, questo minimo, questo massimo, a più o meno questa, eccolo qui, questa ampiezza, chiaramente, diciamo che, una volta che fa questo, poi si, magari rimane un'altra settimana, sopra, attorno, 86, 80, no, quindi, questa zona che abbiamo individuato poco fa, come zona, ex zona resistenziale, comunque, zona dove potrebbe il mercato sostare momentaneamente, potrebbe anche condensare, quindi, ci rimane, magari, un ulteriore, tre giorni, o anche settimane, poi andare verso i 90, quindi, questo movimento qui, guardandolo un pochino più, nel lungo, potrebbe fare qualcosa del genere, e poi muoversi, con, diciamo, con un'ulteriore, con un'ulteriore gamba long, quindi, cosa significa? Significa dal punto di vista temporale, che magari ci impiega, una settimana, qui, un'altra settimana, qui, più o meno un'altra settimana, potrebbe essere un movimento, anche, che il mercato impiega, a percorrere, in, tre settimane, quindi, questo, è da tenere, da tenere in considerazione, anche, nel, diciamo, nella gestione, quindi, rimanendo sempre tranquilli, operativi, con, diciamo, con il metodo, con il metodo, insomma, che è sempre il, il solito, senza farsi, prendere da, dal, dal momento, o comunque, dalla, dalla singola giornata. Questa, diciamo, questa, quindi, è la, la situazione, operazione abbastanza, abbastanza tranquilla, al momento, quindi, la situazione, su, su sterlina, è cambiata, quindi, il long, l'ho chiuso, l'ho chiuso a costo operativo, l'abbiamo visto, sono long, sul petrolio, non ho altre situazioni, sul, sul mercato, da, da valutare, anche perché, mi sono, sono rimasto, fermo, cioè, ho un piano operativo, flat, sugli indici, nel senso che, non, non andrò a fare niente, finché non ci sarà una nuova, eh, price action, su, sul settimanale, chiara, quindi, uno swing o addirittura una price action short, è evidente, ma, sono dei mercati che, chiaramente, hanno bisogno anche, anche loro di, di respirare, darmi un, come dire, un, un'indicazione di, di price action chiara, per, per poter operare. Bene, per oggi, per oggi direi che è tutto, anche, insomma, questo, questa volta ti ringrazio per aver visto il video fino, fino in fondo, ti ricordo come sempre che, eh, puoi lasciare un video, eh, un commento sotto, sotto questo video, per farmi sapere, se hai fatto anche tu, un, il trade su, su sterlina, se sei short, se sei long, e se, eh, se invece, per esempio, hai poi, eh, fatto questo, questo trade, su, sul petrolio, se lo condividi, come, come eventualmente lo gestiresti, se ti piace questo tipo di gestione, fammelo sapere nei commenti, lascia un mi piace, e se non ti sei iscritto, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato, io ti saluto, ti ringrazio, grazie, e alla prossima e soprattutto buon trade, ciao. Grazie.